Il nuovo trailer di Gomorra 3 ci ha lasciato parecchi spunti, infatti si vede la voce di Jenny che dice siamo soli io e te, riferendosi chiaramente a Ciro, con i due che sembrerebbero pronti ad un nuovo scontro per la leadership del clan. Tuttavia ci sono cose che lasciano parecchi dubbi, Ciro viene mostrato più volte in scene che non fanno capire quale sia realmente la sua situazione attuale, mentre Jenny si mostra ancora convinto di sé, ma sembra più indebolito in alcuni frangenti. In particolare una scena appare inequivocabile, Jenny Savastano in ginocchio a terra e gli viene puntata una pistola alla testa, lasciando presagire che qualcuno è in procinto di premere il grilletto ed eliminare il nuovo boss camorristico, dopo la dipartita di Pietro Savastano. La scena è molto veloce ma fermando i frame l'immagine appare chiara e la cosa ha messo subito in agitazione i tanti fan di Jenny, che temono tocchi proprio a lui morire in questa nuova stagione. Per restare aggiornati sulle anticipazioni tv iscriviti al nostro canale youtube e seguici sulla nostra pagina facebook.